amici di seili amici della barcolana amici della barcolana maxi trofeo tivoli porto piccolo bentornati ancora seconda puntata di questo talk post regata ieri abbiamo detto che non era un po stregata perché la regata non c'era stata oggi invece giornatona vedrete le immagini anche durante questo talk c'era la bora o una simile bora diciamo così qualcosa di simile che ha soffiato tra i 12 è arrivata anche a 18 no di qualcosa pure di più in qualche raffica abbiamo un primo gruppo di ospiti alcuni ci raggiungeranno probabilmente sarà un talk movimentato quindi state con noi alessandro alberti è il tattico di any wave saffilance any wave saffilance primi in reale poi aspettiamo le classifiche vedremo cosa succederà ma già hai fatto questo segno con la mano regata avventurosa per voi ma per tante barche stefano raspadori su echita loro sono le due barche che si sono alternate al comando di questa regata e si sono superate a vicenda poi abbiamo roberto zambelli eccolo qua e giorgio marchesi che invece rappresentano pegaso la società sportiva che gestisce questa barca gloriosa un progetto di paolo cori una barca che viene da rimini con la cultura dei vecchi classi libera dell'adriatico con quella logica lì di cui pure stefano è un artefice allora cominciamo da any wave saffilance perché avete vinto in tempo reale la regata dici già hai messo le mani avanti sicuramente non abbiamo vinto il tempo compensato abbiamo visto durante la regata varie vicissitudini soprattutto con la gestione di un cozziro che era un po' imbizzarrito e alla fine abbiamo anche finalizzato proprio abbiamo preso l'immagine di voi che nelle andature portanti andavate con un corredo di vele straordinario avete tre vele a prua uno ienchi un fiocco e un altro sullo stralletto c'è stata una soluzione questa un po forzata perché il nostro genac era 3 che abbiamo cercato di aprire al boa 2 si è incaramellato non si apriva più non si apriva non si chiudeva quindi abbiamo dovuto ammainarlo e a quel punto l'unica scelta per noi era usare questa trifoil mettere quindi oltre al fiocco un jeep top e la stake sail che è una soluzione che funzionicchia ci vorrebbe più vento ecco con più vento era perfetta invece con le condizioni che abbiamo avuto serviva al genacar che non avevamo più a quel punto sapevate già voi sapete già grosso modo quanto dovete dare a una barca come e chita per vincere incompensato se una diecina di minuti almeno e quindi sicuramente non gliele abbiamo dati ne abbiamo contati 4 5 quindi siamo addirittura a metà è stato un bel duello davvero in certi momenti era quasi un match race e sembrava di si pensava già tutti pensavamo un po la barcolana no quindi e chita si sta preparando alla barcolana oggi aveva da bordo dei ambassi il direttore sportivo di della società belga di barco l'alghilineo che ieri era proprio seduto qui dove sei tu adesso allora la regata invece di chita che a noi è piaciuta molto siete partiti molto bene sulla barca comitato mentre invece loro hanno scelto il pin due estremi opposti sì sì esatto poi abbiamo comunque continuato direi abbastanza con una regata regolare e l'unica cosa a seconda boa forse potevamo dare la 3 siamo rimasti un po conservativi sul co zero cose che invece poi abbiamo fatto nell'ultimo lato di lasco e comunque è stata una bella battaglia per cercare di non allontanarci mai troppo da loro dove abbiamo cercato di sfruttare anche le loro problematiche nella prima poppa diciamo così voi avete usato un co zero nero scuro che ogni tanto ballava un po di spalla diciamo così nella seconda mi sembra che invece avete dato genna che esattamente infatti era quello che forse avremmo dovuto dare anche nel lato in cui abbiamo dato il co zero era un po indecisi sugli angoli ma la 3 la genna che era pagava nettamente senti due barche così diverse parliamo un po di questo maxi dolphin di questo e chita 62 piedi 64 insomma sono barche simili no però ecco che barca è come si porta beh è una barca è un fast cruiser una barca che nasce comunque per la crociera e l'armatore comunque giustamente ha piacere di sfruttarla al meglio divertendosi anche a fare queste bellissime regate ed è comunque una barca direi abbastanza performante considerando che non nasce solo per fare le regate infatti vi aspettiamo allora pure la barcolana vediamo allora giorgio e roberto pegaso veramente ci è piaciuta tanto l'abbiamo abbiamo commentato durante la regata ci piaceva l'idea che voi siete stati gli unici a dare due mani di terzaroli subito perché evidentemente abbiamo detto questi conoscono i loro polli sanno bene che è una barca super invelata e quindi raccontateci questa scelta e poi anche un po le vicissitudini di quello che è successo perché alla fine c'è stato questo ritiro proprio mentre sembrava che stavate rimontando molto sì diciamo che abbiamo avuto parecchie difficoltà con un po tutte le vele e ieri avevamo deciso già di prendere due mani alla randa perché la prima mano è piuttosto piccola quindi quasi nulla e la seconda mano invece è un po troppo mano però alla fine abbiamo considerato che Pegas è una barca da vento leggero diciamo non quando arriviamo sui 12 15 nodi già facciamo fatiche quindi abbiamo deciso di partire con due mani alla randa ed è stata la decisione più corretta e la regata è andata abbastanza bene diciamo su quasi tutto il percorso finché poi alla terza bo non ricordo quale praticamente il fiocco si è aperto in due e abbiamo dovuto e abbiamo dovuto mollare la presa prima della rottura del fiocco c'è stato un altro inconveniente che mentre issavamo il fiocco è partito il frullone e quindi abbiamo dovuto andare da un'altra parte non verso la boa quindi abbiamo perso parecchio tempo e va bene è andata così bene voi venite da Rimini avete questa società sportiva che gestisce questa barca di questo armatore siete qui per fare la barcolana avete approfittato di questa barcolana maxi trofeo tivo li porto piccolo per fare un po di warm up no di preparazione e ben ben venga che si è rotta una vela oggi magari non in barcolana meglio ritirarsi qualche la barcolana però ecco com'è com'è lo spirito di pegaso l'equipaggio come organizzato questa società sportiva raccontaci un po di pegaso ma diciamo che la società sportiva nasce già parecchi anni fa si parla più di 20 22 23 anni fa poi successivamente con gli anni siamo sempre cresciuti il progetto pegaso è partito quattro anni fa su rimini il team praticamente quasi tutto riminese a parte qualche qualche recezione siamo aiutati da tre professionisti di cui uno è duccio colombi che tre quattro cinque anni che ormai con noi quindi ci supporta e ci sopporta soprattutto quindi lo ringraziamo per la sua pazienza sua passione il suo cuore che ci mette quando è con noi su rimini stiamo sviluppando dopo tanti anni un progetto importante perché rimini è stato a suo tempo insomma un punto importante dell'adriatico con con la riviera di rimini abbiamo avuto varie esperienze positive avete un copri boma con scritto riviera di rimini marina di rimini che insomma ci ospita dentro al marina e ci aiuta anche insomma anche perché se non abbiamo sponsor progetti non vanno avanti e della barcolana che previsioni fate a questo punto si prevede anche voi prevedete una barcolana di tempo leggero quindi teoricamente adatta una barca come pegaso si diciamo che se il vento rimane quello della bernetti noi siamo contenti senza i buchi di vento però bernetti senza buchi vorrei ordiniamo che pegaso ordina il massimo della vita dopo la barcolana pegaso doveva dopo la barcolana pegaso va a venezia e sperando che ci siano anche i nostri amici c'è un dibattito qui sul fatto di perché in effetti c'è questa continuità tra la settimana della barcolana allora giorgio marchesi e roberto zambelli devono lasciarci e vengono sostituiti intanto grazie forza pegaso ci vediamo in barcolana grazie a giorgio e roberto e arrivano due nuovi ospiti che accogliamo così al bello della diretta e li vedete sono marco bodini olimpico di tornado quindi a casa fate applausi naturalmente ciao marco e abbiamo mauro magarotto che invece non ha fatto le olimpiadi ma dovete invidiarlo follemente perché lui è il comandante di una leggenda chiamata new zealand indivor e quindi io parto subito da te guarda metto qua seduto e parto da te ma quando ti hanno detto che diventavi il comandante di new zealand indivor no tu la conoscevi sta barca avevi letto ovviamente sei un appassionato di vera quindi avrai letto hai seguito cioè dice adesso io la comando qui dove c'era grand halton ci sto io adesso che sensazione è bellissimo io poi dormo nel letto di grand halton addirittura io ho scelto quel posto letto perché bellissimo anche la storia di questa bellissima barca questa importante barca però tutto nasce un po di anni fa quando l'armatore ezio tavasani mi ha chiesto se ero disponibile a quest'iniziativa non potevo non essere disponibili perché è talmente interessante la storia di questa barca e immaginare di poterla riportare alle condizioni che era una volta farla navigare è proprio un'iniziativa entusiasmante tanto studio perché è stata fatta in un periodo dove soprattutto new zealand nuova zelanda aveva un budget illimitato probabilmente quando ha fatto questa barca è una barca straordinaria con realizzata con dei materiali eccelsi di qualità di altissima qualità e noi pian piano ci siamo guardati filmati ci siamo stati molto aiutati anche dalla nuova zelanda dal progetto dal progettista dal cantiere martin che ci ha dato tutta la documentazione necessaria per rimettere in buone condizioni questa barca è una storia eccezionale veramente che andrebbe anche raccontata anche con foto quanto ci avete messo quanti anni ha la barca la barca è del 1993 92 è stata varata nel 93 come un giro del 93 94 ha vinto l'ocean race e all'epoca si chiamava wheat bread round the world race volvo ocean race oggi ocean race noi siamo stati anche quest'anno testimoni dell'ocean race quindi torniamo da genova è stato molto bello anche quell'evento quindi la funzione di una barca del genere anche quella un po di essere testimonial di se stessa quindi girare raccontare un po di storia della vela di storia dello yachting però tu invece la tua storia certo come diventi come di come si avvicini alla vela io ho sempre navigato e ho fatto tanti sport poi diventando un po più anziano ho scelto uno sport che mi piace tantissimo perché finalmente ho trovato anche un equilibrio di tempo è uno sport che necessita di tanto tempo quindi ho fatto tante regate ma soprattutto ho navigato la mia esperienza è più da navigatore che da regatante ammiro molto loro che sono molto agonisti sentono molto molto forte l'agonismo io sono un po meno spinto di loro ma mi faccio prendere facilmente ce ne siamo accorti anche oggi perché avete fatto insomma avete studiato un po la regata marco night shadow tp 52 tutto nero veramente veramente night shadow vi abbiamo seguito e abbiamo visto regata non facile per voi cosa vi aspettate in tempo compensato ma sinceramente il tempo compensato non era più pallida idea perché siamo comunque i più piccolini e forse quelli più attrezzati da regata di tutti io parlo per quanto riguarda il rating non ho visto gli scratch time quindi non lo so effettivamente cosa aspettarmi noi abbiamo fatto una bella regata sono arrabbiato con sandro perché quando siamo sto scherzando ovviamente ma quando siamo partiti ho detto teniamo conto di dove di dove vanno loro perché loro hanno tanta elettronica io ho fatto tutta l'elettronica tutta la navigazione con l'orologio garmin e quando li ho visti che hanno combinato quel disastro gli si è rotto povero gli si sono aperti gli si è aperto il coziro come ha raccontato lui prima mi sono sentito un attimo perso ho detto restiamo con i nostri piedi sulle nostre barche usiamo le nostre forze e niente siamo i più piccolini comunque abbiamo fatto il giro intorno alle boe direi nel minor tempo possibile per quanto ci riguarda nel senso che non abbiamo buttato via tempo in manovre sbagliate ci prendiamo il piccolo merito di essere stati gli unici che nel primo bordo hanno essato nel primo giro hanno essato il gennacherone bianco così abbiamo fatto un po di numeri così l'equipaggio sta crescendo io li conosco da quattro giorni in realtà tutto l'equipaggio per cui dobbiamo un attimo entrare in contatto gli uni con gli altri per capire quali sono effettivamente i limiti della barca e dell'equipaggio c'è tanto da crescere comunque i numeri sotto con lo spinnacherone non li abbiamo visti perché abbiamo visto da lontano che avevate dato questo bello spinnacher pieno con le spalle molto larghe però abbiamo notato seguendo la regata e guardando in particolare voi nasciato che voi normalmente avevate 10 15 anche più gradi di sbandamento in più rispetto agli altri cioè tendevate a sbandare molto adesso poi il timoniere qui non c'è quindi possiamo dire quello che vogliamo no dico c'è un motivo secondo te era sopra invelata non era sopra invelata era un errore di conduzione sto cercando piano piano di coordinare tutto l'equipaggio in modo da indirizzarli già l'ultimo apprezzo la critica già all'ultimo lato avevamo un po più di tempo avevamo preso un po le distanze con il ritmo con l'intensità del vento e siamo riusciti a navigare in modo un po più ortodosso diciamo comunque in crescita dopo la barcolana che dove ti vedremo vado a scarlino con lo suon 45 dove faccio parte dell'equipaggio devo fare una manifestazione suon sti agonisti pazzeschi capito mauro allora ultimo giro ultima domanda per tutti parliamo di barcolana c'è scritto qua dietro guardate barcolana barcolana 55 ognuno di voi la la propria barcolana che si aspetta cosa vi aspettate per questa domenica non tanto le condizioni ma proprio lo spirito l'approccio cosa vorreste anche un po alessandro alberti noi vorremmo che ci fosse un po di vento non come il bernetti giusto per muoversi anche un po in sicurezza in mezzo a tante barche e poi quello che ci aspettiamo di passare una bella domenica tutti insieme insomma la barcolana è principalmente una festa questa non è retorica ormai chi l'ha frequentata lo sa bene per alcune barche conta anche un po il risultato insomma però l'importante è stare bene assieme con gli amici divertirsi e non far danni domani c'è la propria finale della barcolana maxi trofeo tiboli porto piccolo e dopo voi andrete sulle rive ormeggiati ci avete un posto domani dopo il post regatta noi ci fermiamo trieste sulle rive abbiamo il nostro stand abbiamo un sacco di ospiti abbiamo musica ballo movimento sta barcolana style barcolana style e chitta stefano raspadori e chitta e chitta si anche chitta partecipa assolutamente per divertirsi sicuramente una bella festa dove tutti puntiamo a vincere però assolutamente la festa ma nello stesso voi pure ormeggerete alle rive noi abbiamo già portato la barca la oggi pronti per domani e la rimane allora marco anche noi noi portiamo la barca sulle rive questo pomeriggio per la barcolana so che sono previsioni di poco vento il nostro target non è di vincere ma chiaramente di fare il giro intorno alle boe nel modo più liscio possibile più smooth senza lasciare senza perdere metri e questo per noi è già una conquista comunque sfido tutti noi ragazzi che ci conosciamo sui numeri voli campi da regatta a dire che ci divertiamo senza stare col coltello fra i denti viva la sincerità mauro magarotto concludiamo col comandante magarotto allora tu con poco vento una barca da giro del mondo da grandi capi da 50 urlanti come te la vedi beh lei naviga molto meglio delle aspettative con poco vento con tanto vento è il suo pane con poco vento però si difende molto bene noi comunque sia che ci sia tanto vento che ci sia poco vento non abbiamo non sappiamo che non abbiamo le caratteristiche per arrivare davanti alle giovani generazioni di queste barche però arriveremo senza senz'altro una posizione importante per noi entro i primi 50 normalmente arriviamo con numeri abbastanza bassi ma sempre 27 metri di barca è che siamo qui bene allora avete capito come al solito storie di barche di marinai di velisti storie di barcolana quindi questa era la seconda puntata del talk show domani barcolana maxi trofeo tivoli porto piccolo si conclude con la regata che è sullo stesso percorso della barcolana quindi davvero un warm up come si dice in termini automobilistici il talk show diventa la premiazione della regata quindi ci vediamo in quell'occasione voi trovate su tutti i social di barcolana oltre che ovviamente anche qui su selli tv il resto delle immagini della regata grazie ad alessandro alberti any wave safilans stefano raspadori per rechita marco bodini per night shadow e mauro mas ma garotto il comandante ma garotto di new zealand in the world che dorme nella cucetta di grand alto a voi la linea grazie